La corsa per la scelta del candidato alla presidenza della provincia di Avellino potrebbe risolversi solo al photo finish, domenica 28 novembre, ultimo giorno utile. Una sfida tutta interna al centro-sinistra, il PD ha lanciato, verso il traguardo il sindaco di Montella, Rino Buonopane. Gli ostacoli si sono levati uno dietro l'altro al primo confronto, nel tavolo di centro-sinistra. Per Italia Viva la candidatura va costruita e non imposta, serve coerenza in regione, dichiarano i Mastelliani, anche i sostenitori delle liste di De Luca Governatore, Capozza e Iannace hanno rivendicato più collegialità. Più possibilista invece l'atteggiamento di sinistra e Movimento 5 Stelle che non si dicono contrarie a priori, ma le perplessità si registrano fra gli stessi dem. Le ha messe nero su bianco in un post su Facebook, il membro della direzione nazionale Franco Vittoria, che non contesta il nome, ma la scelta compiuta dai maggiorenti in quello che definisce il partito delle ricaricabili dopo lo scandalo tesseramento. Prima di lunedì difficilmente matureranno novità, la candidatura Buonopane deve decantare. Italia Viva dopo lo schiaffo ricevuto dialoga con Festa, altro deluso dal Nazareno per essere stato tagliato fuori dai ragionamenti. Per i renziani, che avevano ricevuto rassicurazioni dal fronte regionale prima dell'intervento del PD romano, avere mani libere di costruire l'alternativa diventa questione d'orgoglio e d'identità. Ma l'accordo con Festa è tutt'altro che un passo, come per Buonopane, ci sono resistenze e ambizioni da superare. Fino all'ultimo miglio della corsa si comporranno e scomporranno strategie per la scelta del presidente. Per le liste dei candidati al Consiglio no, non c'è più tempo. I aspiranti dovranno correre nella raccolta delle firme e completare al più presto le squadre o rischieranno di arrivare al traguardo fuori tempo massimo. Grazie a tutti.